Il mio nome è Quirin LeMay, sono gestore e azionario di D-Groove Peterkam Asset Management. Il nome del fondo è D-P-E-M, Invest B-Equities New Gems Sustainable, multitematico, mid-cap e sostenibile. Il fondo innanzitutto è multitematico. New Gems è infatti un acronimo per sette diversi temi, nanotecnologie, ecologia, benessere, generazione Z, e-society, industria 4.0 e sicurezza. Si tratta poi di un fondo mid-cap Bias, un terzo degli asset under management, sono investiti in società, dalla capitalizzazione dai 10 miliardi in giù. Siamo infine attenti alla sostenibilità in modo attivo, infatti creiamo internamente i nostri indicatori di performance, importanti per ogni sottotema. Abbiamo un orizzonte temporale di investimento di lungo termine, ma ci confrontiamo tipicamente sui 3-5 anni. Siamo investiti al 100% in azioni, ma abbiamo un minimo di 5% fino a un massimo del 25% di esposizioni in ogni sottotema. Il benchmark è MSCI World. Il fondo ha un minimo di 70 e un massimo di 80 posizioni. Visto che investiamo in società innovative, il rischio è piuttosto alto. L'obiettivo è investire in società innovative, che disegneranno il mondo del futuro. Vogliamo battere il benchmark in un orizzonte temporale di 3-5 anni, cosa che abbiamo già fatto in passato. Nel 2018 il fondo ha reso il 5% su base assoluta, sovraperformando il benchmark. Il fondo è molto attraente per i Millennials e la Generazione Z, visto che investiamo in aziende innovative e siamo un fondo sostenibile. È un fondo per clienti che hanno un orizzonte di investimento piuttosto lungo. New Gems è un fondo multitematico. New Gems è infatti un acronimo per 7 diversi temi. Nanotecnologie, ecologia, benessere, generazione Z, i society, industria 4.0 e sicurezza. Sul fronte ESG, visto che investiamo nelle società media capitalizzazione, sviluppiamo i nostri indicatori di performance internamente. Per ogni sottosettore, focalizzandoci in particolare su 5 fattori ESG più importanti per ogni sottosettore. Grazie. Grazie.